E con questo siamo a due Sì, ma due di quanti? Di tre, dai Sono tre, sono sempre stati tre, dai Funzioni Beh? È troppo facile Se la torre ha il controllo, perché non disattiva il montacarichi? Cosa vorresti dire, Joshua? Che ci sta guidando Sì, ha senso Accidenti, c'è un'intera flotta Wow E nessuno si è accorto? Chissate qualcuno è ancora in grado di volare Mead pagherebbe per vederle Ma non se ne parlerà, ne è vero? Qui non c'è niente, è strano È perfetto per essere un'arena Si vede il mondo? Sì Va da là Quel cratere? Mappa Non mi dà la mappa Oh, qualche mostrucolo, dai Non mi dà la mappa E ora Tutti giù Perfetto A posto A posto Grazie Questa vita Sì Allora Allora Questa Questa c'è un altro mostrone un mostrone mostruoso ah è un altro titan oh così agis eccoci qua dai resisti in un colpo facciamo fuori tutti i ragnetti e ci concentriamo sull'egis in un colpo faccio finito vuoi attivarmi un altro agis bit di disingaggio sembrano degli accessori specifici per questo dire sì ma non c'è manco voglia di vedere cosa fanno cosa fanno è la crystal tower è la torre di cristallo palesemente trasferimento del prototipo guardia ma la voce di trenitalia rischino speriamo solo che con i suoi cristalli siano inutili come tutti gli altri ooo ooo si zmaicchia ok dai, una versione più perfetta NOOOOO Ok, grande Per involontario Ahia, oh Haha, baschetto Roulette? Ahia Oh 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 Ah Non bene Per fare questa mossa Mi sono dovuto esporre Oh 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 Non bene Oh 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 direi ola ola pure piuttosto cattivo è fattibile comunque, dai non riprenderti, perfetto quasi eh, lui comunque c'è wow questo è il non plus ultra però fa degli occhi quanto è vario? akamana oh non scomparire di nuovo lo stesso errore grazie l'ha detto davvero sì sì non scomparire questo si chiama angramainu non me ne ho accorto l'ho visto solo in final fantasy 10-2 che non è molto lusinghiero per lui certamente sì ce la stiamo facendo dai nostro uno e due sai cosa? lo faccio di livello 4 angramainu ucciso 3 milioni 120 mila punti esperienze muri perfetti meteorite perfetti collegamento neurale interrotto ricognizione collegamento neurale? immagina un'intera guerra combattuta con queste cose la quantità di etere necessaria ad animarle doveva essere inconcepibile non mi stupisce che stessero cercando di creare dei propri cristalli connessioni negata livello di minaccia aumentato ahia sembra che ci stiano rivalutando non è mai un buon segno magari ora si aprono tutte le altre gabbie non sfidare la sorte Joshua perdonami magari non si aprono Joshua stai zitto Joshua dai codice arancione che bello quando subentra il techno fantasy mi piace mi piace molto battaglia in salita nooo un nello superiore bella la musica bella la musica sì bella quello è tipo il duple oh salda di di l'info su di il di l'info Grazie a tutti. Posto? Andiamo. Quello deve essere l'oggetto più importante del mondo per essere così noiosamente lontano. Pozioni. Doveva essere una pozione potente. Se no dovevano metterla più vicino. Dai, sto esagerando con la puntigliosità. E' inutile che mi ripeta. Sapete quali sono i punti che ritengo difetto in questo gioco? No, però. Yes! Hai ceduto, cara? Eh, esatto. Sono ancora in forma. La memoria muscolare. Tutti giù per terra. Oh, veramente inquietante. Familiare? Non lo so, ma a voi non sembra stranamente familiare? Familiare? Dai, dammi una bella rivelazione. Ma guarda. Ma guarda. Minotaur Akashi? No, è una nuova skin. Come L'angraman, questo Asterios. Esatto. E non plus ultra. No buono. Esatto Esatto Ombro, subito Quando si sturdisce Yes E ora gli facciamo un altro Ombro, subito No Olé Subito Ombro è già via 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 troppo lento nooo nooo sbagliato 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 mettiamo un tq la barra della resistenza con questo ecco questo mai più devo stare vicino finora sono andato benissimo sbagliatissimo stavo morendo in maniera stupida ma stupida livello 100 e si continua ad andare avanti il cap non è né 99 né 100 ma questo sembra potente però bello sto bit rianimante ottieni tutti i bit decaduti abbiamo preso tutti gli accessori ok è un peccato sentire la completa inutilità dei compagni si stia preparando a riceverci l'ho 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 il miglioramento medio della resistenza dei cristalli 492 per cento con nuclei biologici a elevata coerenza aniteita gli esemplari che mostrano coerenza parido inferiore a 7 verranno inviati a livello di per riconversioni militari non si spreca nulla eh esatto hopla ciao tudino titano bavarese della sfida bavarese della sfida tutti i nemici minori a terra bavarese della sfida bavarese della sfida eeeh giù se quello a cui stiamo assistendo era davvero opera dei decaduti erano molto più vicini a ergersi a divinità di quanto pensassimo ci credo che ultima li ha distrutti eeeh inquietantissimo bobina per orchestrion sono gli unici oggetti unici che si trovano nei forzieri le bobine per sentirsi la musica nell'hab eeeh ma perchè questo bavarese eeeh 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 uuuuuh mano male non ti sei spostato allora prima recupero tutta quella vita usando le fiamme della rinascita Puoi per stare tranquilli Zampe e zucche Ottimo Maledetto Non ci credo E ci sono riusciti E io che temevo di non farci Oh, sono un po' più bravo Oh, sono un po' più bravo Codice rosso Codice rosso Il cuore deve essere vicino Bello, dai, una certa esaltanza Qui è dove siamo venuti Esatto Abbiamo subito uno zante zucche A livello massimo Grande Ok Ho recuperato tutte le pozioni Buono Non me la sto cavando male Sala dell'elicitazione Ovviamente lo distruggeremo Ovviamente lo distruggeremo Prima Dovremmo combattere contro Omega E se non ci mettono anche un pezzo con Ifrit È un gran spreco È un gran spreco In un'arena così chiusa Dove ce lo vuoi far stare Mmm Vediamo un po' Ma quanto è finito Accesso non autorizzato Firewall del nucleo primario attivati Avvio del sistema difensivo iconoclastico Omega 1 Cos'è un sistema difensivo iconoclastico? Temo che lo scopriremo molto presto E che la risposta non ci piacerà Omega Omega E' un'arena E' un'arena E' un'arena O' che cosa è? E' un'arena E' un'arena E' proprio Omega contenimento nucleo completato autorizzazione del protocollo di sterilizzazione se non altro questa volta sappiamo dov'è esatto e se vogliamo sconfiggerlo sconfiggerlo dobbiamo solamente uccidere un Eikon la musica è quella giusta tacco delta che bello interessante come ancora che bello sono gli attacchi di omega omega come visto in tutti i final fantasy ma non l'ho colpito ero troppo lontano vai spara meno in un altro o a oh ah 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 Puoi farlo ancora? No. No. Ok. Ora sono un po' più vicino. Ora sono un po' più vicino. Ora sono un po' più vicino. Non saltare. Devo prepararmi alla parata. Arriva. E va. E voilà. Non abbiamo mica finito. Oh, molta vinta. È bello duro. È infatti a più fasi. È finita. Ditemi che è finita. Analisi dati. Completata. Ricalcolo livello di minaccia. È la voce di Tremitano. Un'armi autorizzate. Deiezione dell'energia a Omega 1. Non ancora. Che cosa te lo fa a pensare? Cambia la musica. Un'armi. Sto 5. Di toine. Di toque. D'accordo, mi hai convinto. D'accordo, mi hai convinto. D'accordo. Da facile è diventato impossibile. D'accordo. 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 lo senti questo calore? sembra che il suo fuoco non sia ancora spesso questo come lo evitavo non salta da quando mi fai riprovare? certo ah bene dai troppo letto ah ahia preso ma lui è troppo lontano e ora è troppo vicino oh allora posso farlo? oh not too bad che fatica oh l'ho preso solo che adesso non esiste più è troppo in alto dai che spreco ah qua sei dai vai giù che ti meno un po' e chi non vacilli bastardo scusi si è interrotto la sua mossa mi sta tipo ammazzando tantissimo non so come sia successo né cosa sia successo non so come sia successo se non TITANO! non saltare attenzione eh devo fare polvere di diamante gli a zero la resistenza dai oh no questo è stato un miracolo e poi vai ti avevo colpito oh ciao che furia scatenata no vado via oh dear oh dear oh 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 ragazzi sto morendo non ho più cure aiuto orgal si aiutami bello ti prego perdonatemi ho finito una vita metà vita mi fai ricominciare? nooo e dai fattiglia nooo hmmm nooo no 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 dai lì stai lì eh molto bene molto bene questa gliela facciamo pagare amarissima grazie memoria muscolare non posso fare altro che posso solo mena brutto no 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 un Sì! Guess something? Sì! Sì! Ok Non si abbassa la resistenza Ora si abbasserà Oddio Incredibile, sono riuscito a pararlo! Aia! Non si abbassa la resistenza Oscurità, cala! Bene così Creo ci vuole un po' affinché si ricarichi Che ho pochissima vita Lo việc Niente manoovra rapida Nooo Mancatissimo si interrompe si grande ah ah maledizione non sbaglierò stavolta e invece l'ho sbagliato ce l'ho fatto fa sbagliare non 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 forza bene ultima fase grande senza atture cosa compressione dimensionale è dovremmo ucciderlo in fretta ah dobbiamo solo essere veloci buonanotte ok ok Perché sta comprimendo tutto il creato Ho finito tutto Dai, dai Dai Non ne sono sicuro Dei sono dominarie fortissimo Dai 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 Madonna che tensione Ai Ah Ah Mi Ah No No Ah 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 Devo ammettere che è molto bello Continuiamo a combattere Grazie a tutti Grazie a tutti Molto appariscente Molto bello Comprime la dimensione Wow Molto bello Così ce la si fa Se si muore si ricomincia da Quando il nemico ha un pelino meno vita Aia Mi stavo facendo molto male Dai 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 O-M-G Sconfiggi Omega In modalità Final Fantasy Non c'è limite in salita Nodulo perfetto Il buon senso suggerirebbe di stare Bene alla larga da metalli recuperati Dai cadaveri di costrutti vecchi di secoli In particolare da metalli che tremolano Come un pezzo di carne appena tagliata Anzi suggerirebbe di buttarli in fondo a un lago Detto questo Raramente le armi leggendari vengono prodotte grazie al buon senso Uff Vuoi poi vedere cosa mi crei Madonna OMG è bellissimo Dai mi è piaciuto Devo ammettere che mi è piaciuto Unità di controllo Omega Offliner Avviamento dell'estrazione del nucleo E ora distruggiamo il nucleo Vuoi essere tu ad avere l'onore Clive Volentieri Aspettate Che cosa? Credevo di avervi detto di andarvene E lasciare che ci rovinaste Io... Io non posso permettervelo Quei cristalli sono davvero vitali per noi Sono l'unica cosa che abbiamo A chi ti riferisci con noi? Facciamo parte di un'antica tribù Una delle prime che ha perso le proprie terre a causa della piaga Per innumerevoli anni abbiamo vagabondato per i gemelli Una nazione senza un cristallo madre Un popolo senza alcuna benedizione Quindi ce ne siamo trovata una I cristalli crepuscolari Sono ciò che ci dà la forza per sopravvivere Sì però a quale prezzo? Ah Come ogni cristallo Questi sono patti di etere E da dove credete che provenga Viene estratto dalla terra Come sanguisughe su una bestia Davvero? Ti aspetti che io creda alle tue parole? Ma dai un pugno va No Ma questo non significa che non possano essere vere Se questo cuore è esattamente come gli altri Risucchierà tutta la forza vitale dei gemelli Finché non resterà nulla Soltanto morte Le prove sono ovunque Chi credi abbia privato il tuo popolo della sua patria? Cerchiamo solo di impedire che accada di nuovo E non c'è altro modo Che mi prenda Tu sei Sid Ah se ne è accorto così Sai che ha fatto l'impero dopo che ha perso testa di drago Cosa succederà quando scopriranno E lo scopriranno Che esiste un altro cuore Nascosto sotto il loro naso I bisogni del tuo popolo Non conteranno niente Ah merda Beh a quanto pare non abbiamo altra scelta Ma avevi detto che non gli credi capo Stai zitto Ma in effetti non ha tutti i torti Non possiamo più tenere segreto la torre Se ci aggrappiamo a quei cristalli La nostra gente si farà ammazzare Va bene Fa come vuoi Ma promettimi che la nostra gente resterà al di fuori di tutto questo Indietro La situazione si scalderà Eh però il combattimento Non c'è stata la trasformazione in Icon Che sarebbe stato abbastanza bello Ma va Attenzione Sovraccarico di sistema Sovraccarico di sistema Errore Nucleo inesistente Errore di sistema imminente Errore di sistema imminente Speriamo di aver fatto la cosa giusta Mi immagino che per dare senso alla trama Principale Così come sta torre uscita fuori dal nulla Ritornerà nel nulla Versumibilmente Vediamo un po' Ah c'erano anche le voci di Arpocrapes Dobbiamo vederle Sono curioso di leggere Cosa si dice di Omega Grazie a tutti No, è sempre stata lì in fondo. Ah, ok, l'energia per chiudere la porta era rimasta, eh. Abbiamo visto svanire i cristalli, ma le gabbie? Abbiamo esplorato soltanto metà delle sale. Senza il cuore a sostenerle, dubito che le cose sopite nella torre si sveglieranno, né ora né mai. Lo spero proprio. Ci manca solo che nel mondo si diffondano costrutti a sei zampe che seminano il caos. Abbiamo già abbastanza problemi a due gambe di cui occuparci, per quanto possano ritenersi innocenti. Cosa? Oh, ha due gambe, certo. Scusa, stavo pensando a cosa dire agli anziani del villaggio al nostro ritorno. Immagino che li implorerò di perdonarmi e, se non funziona, scapperò lontano e terrò un basso profilo per un anno o due. Stai pensando di scappare? Di nuovo? E allora? Finora ha funzionato, no? Voglio dire, abbiamo avuto un piccolo aiuto. Grazie per il riconoscimento. Voi e il vostro villaggio ve la caverete? Oh, siamo sopravvissuti in passato. Continueremo a farlo. Se ciò che hai detto è vero, anche il resto del regno avrà i suoi bei problemi di cui preoccuparsi. Inoltre, le difficoltà di uno sono le opportunità di un altro, come si suol dire. Non ricordo un simile proverbio, ma... D'accordo. Ora, se non ti dispiace, noi dobbiamo proprio andare. Davvero? Voglio dire... Certo. Eh, grazie di... Eh... Tutto. Ho detto... Noi dobbiamo proprio andare. Si torna al rifugio, dunque. Carone e Arpocrates vorranno sapere com'è andata. Ah, pensavo che potremmo tornare nella torre per vedere se riusciamo a... Si torna al rifugio, dunque. Ok. Certo. Quindi è qui che si trovava un nucleo artificiale, un cristallo madre artificiale, al confine con i territori settentrionali. Oh, ma guarda un po'. Sei tornato, eh? Allora... Hai scoperto da dove vengono quei cristalli crepuscolari? È una lunga storia. E forse è meglio raccontarla in biblioteca. Diamine. Ricordami di non ficcare mai il naso nelle rovine dei decaduti. Non solo un cristallo madre di creazione umana, ma persino un eikon. Lo studio dei decaduti continua a dare i suoi frutti. Le meraviglie che erano in grado di fare non cessano mai di stupirmi. Beh, direi che hanno sorpreso anche noi. Puoi dirlo forte. Non sapevamo in cosa stavamo andando a cacciarci quando siamo entrati in quella torre. Io lo sapevo. Conoscevamo solo le antiche storie di persone consumate dalla brama che cercarono di rovesciare gli dèi. E credo che quello che abbiamo trovato nella torre fosse stato creato per tale scopo. Omega. Il frutto di conoscenze illimitate e ambizioni incontrollate. Una combinazione pericolosa per tutti quanti. E ultima gli annientati. Non dimentichiamo che i decaduti bramavano i suoi segreti. Miravano a spodestarlo. Così come miriamo a farlo noi. Ma senza avere le loro conoscenze. E le loro armi avanzate. E le loro armi avanzate. Forse il potere che mi è stato concesso supera il loro. Ma se lo userò come loro. Chi può dire che non finirà allo stesso modo. Su via, fratello. Credo che gli eventi degli ultimi giorni abbiano dimostrato che noi non siamo i nostri antenati. Come tu ben sai. Hai ragione. Loro creavano i cristalli. Noi li distruggiamo. Creando il loro cuore artificiale. I decaduti volevano emulare gli dèi. Ma noi abbiamo scelto una via diversa. Già. Non vogliamo essere dei. Vogliamo essere liberi. Ben detto. Se non impariamo dagli errori del passato, siamo destinati a ripeterli. Pertanto, ho intenzione di scrivere in dettaglio quello che mi avete riferito. Affinché chi verrà dopo di noi impari dai nostri travagli e forse, e solo forse, forgi un futuro migliore per i nostri discendenti. E finisce così. Sì. Ah, te lo dice proprio così. E DLC finisce qui. Come ho fatto a non pensarci? La O di Echos è Omega. Omega. Famento Crepuscolare, oggetto importante. Mamma, non esiste. Si sono sbriciolati tutti. Va. Vabbè. Ripercussione. Silenzia gli echi. C'è una nuova missiva, una nuova arma. Adesso leggiamo tutto. Perché probabilmente creando la nuova arma si sblocca l'ultimo trofeo aggiuntivo. La conoscenza non trasmessa è conoscenza perduta. Guia del saggio. Possiamo solo presumere che la capacità dei cristalli madre di incanalare l'etere fosse preziosa per la civiltà dei decaduti quanto lo era prima nostra. Anche di più scommetto date le vaste quantità di etere che le loro geniali invenzioni dovevano richiedere. In breve. La benedizione dei cristalli che l'uomo moderno vedeva come un dono illimitato a loro doveva apparire come una risorsa piuttosto limitata. Non mi stupisce che abbiano cercato di ricreare la fonte di tale benedizione per tentare di farla loro. Dunque la torre hai visto l'amaro frutto di tale ambizione. E non solo di questo. Anche da loro ambizione di spodestare gli dèi. L'eikon oclasta omega. Il distruttore del divino. Cioè sarebbe l'eikon artificiale. È ironico che gli eikon possenti creazioni di ultima, se vogliamo credere alle sue parole, debbano il loro nome a un'opera umana progettata per distruggerlo. O forse è solo appropriato. Se hai una domanda per me, sarò felice di rispondere. Allora. Sono alla fine. Famiel, Alec, Marnek, Guglia. Guglia è un personaggio? Il capo dei minatori di cristalli crepuscolari. Lui e i suoi compagni vengono da una comunità isolata scacciata dalla propria patria ancestrale dal diffondersi della piaga e che si affida dai tempi ai cristalli crepuscolari per sopravvivere. Tuttavia, una volta saputo che i cristalli sono la causa della piaga e capendo che è solo questione di tempo prima che le autorità dei gemelli scoprano la guia del saggio e reclamino per sé il cristallo madre al suo interno, Famiel permette a Clive di distruggere il cuore artificiale. Permette! Come se avesse potuto fare qualcosa. Uno dei compagni di famiglia si è mammarne che è impegnato nell'estrazione dei frammenti di cristallo crepuscolare. Il suo naturale nervosismo viene acuito dalle pericolose situazioni in cui il suo capo continua a esporlo. Fisicamente forte l'ego di spirito, ben si presta a duratività e che è un bene dato che i compagni di famiglia si trovano spesso a dove scappare per salvare la vita. Allora, questo è interessante. La voce della guia del saggio, o almeno quella che si sente risuonare nelle sue sale, è un'intelligenza artificiale, ovviamente, che controlla la funzionalità dei congeni della torre, inviando ondata dopo ondata di mostruosità a Magitech per eliminare Clive e i suoi alleati. Tuttavia Clive non è un bersaglio facile. Dopo aver distrutto il cuore del cristallo madre artificiale, la voce della guia torna silenzio. Ditemi se anche voi avete questo problema. Ogni tanto i tasti si bloccano quando sono nella... qui nel glossario, nel codex. Le librerie sono sempre aperte per te. Buongiorno, amico mio. Hai deciso di studiare i tomi? Che si blocca tutto qua. Ok. Piano. Chissà perché c'è questo problema. Guia del saggio. Sebbene la funzione principale della guia del saggio fosse quella di produrre in massa cristalli artificiali, sembra che la struttura dei decaduti sia stata utilizzata anche per la riconversione Magitech e la militarizzazione dei derivati del processo di cristallizzazione. La guia è stata evacuata e sigillata durante l'assalto di Ultima contro Zemechis e la sicurezza e la manutenzione della torre è stata regalata a Yechi, macchine instaccabili che ancora oggi pattugliano le sale d'avorio della guia. Zemechis era tipo il capo della resistenza contro gli dèi. Un tempo una foresta lossureggiante che riforniva di salvaggine e carbone gli abitanti di Pozzo Orientale. Negli ultimi decenni la piaga è gradualmente privato alla regione di Bosco Oscuro delle generosità della natura, lasciando soltanto pietre inanimata e fronde amerite. Si dice che con il recente risveglio della guia del saggio, le rovine dell'aria abbiano inspiegabilmente aperto le proprie porte e versando sulle distese abbandonate ogni genere di creature letali e grottesche. Cristali crepuscolari, cuore artificiale, esemplari, armamenti, eiconoclasti, carne vivente. Puoi vedere prima questo. Macar brigrumi di tessuti situati sulle pareti dei livelli superiori della guia del saggio. I decaduti cercavano di creare dei cristalli usando bestie e uomini bestia come seni, e sembra che questa sostanza sia un derivato di tali risultati. Ok, sono gli scarti. La sua forza e la sua maleabilità l'hanno resa il materiale ideale per creare degli armamenti viventi. Sembra che il turbamento dell'Etere risultante dal lancio di primo Genesis da parte di ultima abbia sconvolto il motore infernale che li produceva, portando a un aumento incontrollato della produzione all'interno della torre. Ah, ok. Famenti oscuri, cristali crepuscolari, che ricoprivano le parenti della guia del saggio. erano il prodotto delle ambizioni dei decaduti per replicare i cristalli madre originali. Sebbene la loro riproduzione fosse ben lontana da tale modello in termini di potenza e stabilità dei loro frammenti, sono comunque svaniti quando il loro cuore è stato distrutto. E allora cos'ho nella mia stanza? Ora andiamo a vedere. Il cuore del cristallo madre artificiale soppito all'interno della guia del saggio, come per i cuori dei veri cristalli madre, prosciugava enormi quantità di ettere dal terreno. Tuttavia, i decaduti lo avevano progettato per congiungersi con la loro mostruosità magitech definitiva, Omega, portando a vette di potenza distruttiva ancora più elevate. Nonostante la potenza del cuore, Omega non è stato all'altezza di Clive e dei suoi alleati. Dopo che l'Eikonoclasta è stato distrutto, la stessa sorta è toccata anche al cuore artificiale. Esemplari, bestie e uomini bestia catturati dai decaduti e tenuti prigionieri nella guia del saggio. Molti estinti. Il reskin l'hanno giustificato con dire, è una razza antica, va bene. I registri di ricerca lasciati al loro carceriere che sembrano suggerire che dovessero essere impiegati nei sperimenti dei decaduti per creare cristalli dai semi organici. L'esistenza del cuore magitech e dei cristalli crepuscolari dimostra come la loro ricerca abbia avuto successo e come gli sfortunati derivati dalla sperimentazione siano stati riutilizzati per scopi militari. Armamenti magitech Armamenti prodotti dai decaduti molti secoli fa utilizzando materiali e metodi molto più avanzati di quelli disponibili oggi. Queste armi, sono dei costrotti, assumono una miriade di forme e dimensioni da cannoni magici miniaturizzati per la fanteria a esperimenti falliti con lo scopo di creare cristalli e di riutilizzarli come armi vivetti fino all'Eikonoclasta Omega una mostruosità magitech autonoma progettata per rovesciare gli dèi e alimentata dal segreto della creazione rubato dai decaduti. Eikonoclasti Di gran lunga è il più potente degli armamenti magitech prodotti dalla civiltà dei decaduti. Gli studiosi ritengono che le fazioni rivali dei decaduti abbiano creato numerosi eikonoclasti di varia foggia ma che siano andati tutti distrutti durante la guerra del magitech e la sventurata invasione di Zemeis che ne seguì. Tuttavia la scoperta di Omega ha rivelato la possibilità che degli altri eikonoclasti siano sopravvissuti con la loro temibile potenza portata di qualche sventurato archeologo. Ai 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 E così si tengono la porta aperta per altri DLC speriamo di no, dai. Hmm, c'è qualche altro mistero del regno? Eki Decaduti Sebbene originalmente i decaduti abbiano utilizzato il magitech per creare delle copie inquietantemente simili in quanto ad aspetto e funzionalità mettendo in dubbio l'ipotesi secondo cui la forma di un eco sia in qualche modo il risultato della violazione delle rovine. Nonostante siano rimasti senza padrone per quasi un millennio e mezzo questi costrutti continuano a eseguire diligentemente gli incarichi che erano stati affidati loro prima della caduta. Ok Altro Aeronave Decaduti Ah, c'è qualcosa di nuovo Un'antica civiltà che prosperava migliaia di anni fa La loro tecnologia magitech era nata scimmiottando le meraviglie lasciate da ultima ere prima portando infine al tentativo di capire i segreti propri dello stato di divinità Il modo di creare un cristiano madre è la terribile forza degli Eiko Aeronave L'abbiamo visto le leggende narrano che i decaduti un tempo veleggiassero tra i cieli a bordo di queste navi i cui reliti ora giacciono in silenzio sulla terra Le rovine che costellano le terre intorno a Zenechis sembrerebbero sostenere la teoria secondo cui sarebbero state usate per la guerra come anche la presenza di varie navi simili nella guia del saggio Una vera e propria fabbrica di mortali armamenti Magitech è un termine che fa la sua comparsa da Final Fantasy VI nei primi treso conti della civiltà dei decaduti e che descrive la loro tecnologia magica all'avanguardia sebbene si sia a lungo ritenuto che gli Econoclasti menzionati nelle antiche storie fossero andati perduti un simile abominio è stato scoperto nella guia del saggio insieme al cuore del cristallo madre Magitech che ne alimentava la furia Goblin antichi Minotauro antico vabbè queste sono tutte razze vecchie Angramainio questo mi interessa in contrariamente a Sigma e Omicron creatura ottenuto tramite il miracolo della scienza dei decaduti Angramainio è un esempio di cosa succede quando gli ingegneri della guia del saggio imponevano la propria volontà su forme di vita esistenti nell'arrogante tentativo di stimolare o migliorare le capacità naturali di tali esemplari il cristallo incorporato nel suo cranio potrebbe servire come fonte eterica oppure come strumento di controllo esterno Sigma Omicron Omega anche detto sistema di difesa e iconoclastico Omega 1 era l'ultima linea di difesa della guia del saggio per preservare la sua risorsa più preziosa il cuore artificiale in grado di piegare le stesse geometrie che definiscono il nostro mondo questo costrutto Magitech era probabilmente l'armamento più potente è creato o di decaduti e può comprimere la dimensione le librerie sono sempre aperte per te il svio di Omega frega niente immagino che tu non sia qui per ricordare insieme no non fare nulla che io non farei è lui ti dico il principe re faccio solo per togliere le notifiche Joshua Clive i cronisti dei decaduti parlano della guerra dei Magitech avvenuta prima della caduta della loro civiltà l'entità che abbiamo incontrato nella guia del saggio Omega è indubbiamente una delle numerose armi Magitech prodotte dai decaduti le giorni di simili entità inviate in battaglia le une contro le altre basterebbero a lacerare i cieli stessi ma forse non serve immaginarlo via e di anni dopo la caduta le nazioni del nostro adorato regno si fanno ancora guerra con i loro eikon e per cosa? il dominio come i nostri predecessori ha portato soltanto morte e devastazione la foglia del genere umano non si è estinta con i decaduti ma potrebbe finire con noi poiché andremo in battaglia con il più grande potere mai creato e non parlo degli eikon o del Magitech ma della capacità di imparare dai nostri eroghi che bravo vogliamo andare? si andiamo via qui c'è Dion l'ora si avvicina quando vuoi sono pronto bravo no no ah bello c'è anche questo perfetto perché fate questi cursori a modi mouse ho un joypad è una console non lo voglio tu hai un nuovo oggetto viviamo in un mondo pericoloso meglio rifi dunque i decaduti sono davvero riusciti a creare un loro cristallo madre non che gli sia servito a molto hanno tirato l'ira degli dèi sulle loro stupide teste e poi hanno lasciato che i loro discendenti sistemassero il casino che avevano lasciato ottimo lavoro nel ripulire la guia del saggio ma se quel cuore dei decaduti è simile a tutti gli altri scommetto che là fuori ci sono ancora ampie scorte di frammenti in attesa di essere venduti a migliore afferente certo probabilmente non dureranno a lungo data la loro qualità e chiunque proverà a spacciarli per cristalli normali finirà restato per smercio di beni loschi ormai quei cristalli sono solo una curiosità appartengono alla storia di questo mondo non al suo futuro fa attenzione volevo anche comprare scusa clive su forza hello ok bene ah bobina per orchestrion e iconoclasta spero proprio che sia tutto è quasi regalato lo sai non troverai un prezzo migliore bene fila via adesso sì 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 blackton che bello mi piace di due parole armamento omega rinforzato ha la stessa potenza dell'ultima weapon in questo blasfemo di carni e ossa sintetiche questa reliquia di un'era dimenticata è mossa dallo stesso spirito vitale che anima dalle sentinari più possenti della guia del saggio non ci sono altre cose qui quindi armamento omega 100% ecco quello che mi mancava ecco la mia ricompensa ma sì sì alla prossima questo è il messaggio per i giocatori al prossimo DLC giocatori allora sì è proprio uguale solo un fatto puramente estetico attenzione i bracciali dei decaduti più 3 sono migliori li metto è la cintura dei decaduti più 3 è meglio la metto vitrianimante d'assalto di disingaggio bombardamento sostentamento fuga vediamo un attimo ripristina una piccola parte dei pv dopo una schivata precisa buono la potenza dell'effetto dipende dalla forma aumenta il potenziale di recupero pv quando si subiscono danni ok ripristina automaticamente la barra di recupero pv ok regge aumenta del 20% i danni e volontà inflitti da buona parte dei attacchi aerei inoltre aumenta da 2 a 3 o 6 il numero massimo di balzi ok indica il tempo di parata precisa cambiando temporaneamente il colore del nome del nemico bersaglio wow aumenta del 20% il rallentamento di tempo dopo una parata riuscita aumenta la velocità di crescita del moltiplicatore di danni quando i nemici vacillano e porta a 200% il moltiplicatore massimo questo è buono aumenta del 25% potenza d'attacco difesa e danni volontà è del 50% la rigenerazione dei pv mentre attiva la trascendenza inoltre se si subiscono danni fatali cioè è tutto a cosa lo sostituisco più esp più difesa più attacco ma io direi più esp arrivati a questo punto b3 animante amico mio ah nessuna abilità bella però mi piace mi piace di più dell'ultima weapon ed è un peccato allora Jill pure tu mi dici qualcosa che sei venuta con me no dal guia del saggio stavo pensando una volta mio padre mi ha parlato di una grossa torre oltre i confini che un giorno sarebbe stata nostra e pensandoci ora poteva riferirsi soltanto alla guia del saggio mi chiedo cosa avrebbe fatto se l'avesse reclamata se avesse visto quello che abbiamo visto noi il cristallo madre dei decaduti è Omega il culmine del potere dei nostri antenati il potere che li ha portati che li ha portati alla loro distruzione spesso mi chiedo se il potere dei nostri Acon sia lo stesso siamo in grado di controllarlo è destinato a distruggerci come ha fatto con loro il mio di certo ha quasi distrutto me ma tu mi hai salvata e ora con la forza di entrambi i nostri e con il cuore ci salverai tutti ciao sii forte Clive Arosid oh Pamiel ti scrivo questo messaggio dalle terre imperiali si so che avevamo detto che saremmo andati dritti a casa ma una piccola deviazione per vendere gli oggetti raccolti durante il nostro viaggio era necessaria serve ai più anziani per attribuire per attutire lo shock per aver perso i cristalli crepuscolari la verità è che questi cristalli sono a lungo stati un ancora di salvezza per la nostra gente e sebbene abbia capito in fretta perché tu li ritenga nient'altro che un laccio attaccato a una nave che affonda l'umile gente di campagna è molto meno aperta ad accogliere nuove idee augurami buona fortuna nella missione per portarli sulla retta via famiel ps nella remota eventualità in cui ci dovessero cacciare con i forconi confido nella tua disponibilità di qualche letto i ragazzi non si fanno problemi nemmeno a dormire per terra oh ma certo ma certo ma certo e l'ultima cosa parmento crepuscolare un delicato cioè perché esiste un delicato riflesso della razza umana passionale ma imperfetta brillante ma fragile ed è il suo futuro chiaro e nebuloso allo stesso tempo il fatto che questo cristallo esista mentre sua madre è andata distrutta è forse un segno di speranza per tutti noi devo togliere tutte le notifiche sì vabbè queste queste sono cavolatine e giustamente posso dare ah ecco esecutore dei decaduti armamento omega possiamo dare tutti gli aspetti che vogliamo vabbè flavor va bene così va bene così va e non c'è nient'altro sì lo rifinirò senza troppi problemi dai livello 101 suona così brutto e quindi in una sola diretta siamo riusciti a vedere per intero il DLC Icos of the Fallen che introduce omega in questo gioco è chiaramente una piccola parentesi ok è strutturato ispirandosi chiaramente a giochi come The Witcher 3 per quanto sia molto più circoscritto ok mentre invece in The Witcher 3 c'erano anche molti aspetti che meglio si diramavano nel gioco principale altra trama un pochettino in più di background ok si risponde alle domande relative a qualcosa in più sul passato dei della razza umana nel mondo di Valistea e ha tutto sommato abbastanza soddisfacente del resto omega è stato uno scontro spettacolare pur non essendoci stato Ifrit quindi sì dai promosso ci può stare fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate quando caricherò questo video su YouTube lasciate pure un commento e se non lo fate seguitemi su questo canale Twitch ma anche iscrivetevi al canale YouTube alla pagina Facebook si chiamano tutti la filosofia del videogioco e ce l'ho sempre scritto qua quindi non vi potete proprio sbagliare se vi volete far male è Cisero87 il nome con cui mi trovate su TikTok e Instagram dove farò una pessima battuta ogni giorno per il vostro sovrazzo o per la vostra disperazione dipende allora grazie e alla prossima ciao